L'anno in scadenza abbiamo appena firmato, quindi contentissimi di proseguire per un altro anno e sotto forza del lavoro adesso. Prosegui con questa Inter, guarda l'anno inter di Antonio Porti, ci racconti un po' le sensazioni, insomma, lavorare con lui, immaginare di iniziare a lavorare con lui. Sicuramente c'è tanto entusiasmo, abbiamo finito un'annata diciamo non facile ma raggiungendo un obiettivo importantissimo per la società, per noi giocatori, quindi partiamo con il massimo entusiasmo, c'è da fare tanto, c'è da crescere tanto e ho tutto l'entusiasmo di un ragazzino, quindi proverò a dare il mio contributo. Il ministro Spalletti ha fatto benissimo, in due anni è riuscito a riportare l'Inter dove merita di stare. Con Antonio Conte sicuramente arriva un altro allenatore vincente e ve lo dirò tra qualche mese perché non l'ho mai avuto. Qual è l'obiettivo che vi siete profissati per questa stagione? È come l'anno scorso, migliorare sempre la nostra posizione, arrivare in Champions e cercare di andare avanti il più possibile. Maso, se ti dico Dzeko, Lukaku, cosa ti viene in mente? Che sono due bestie.